Eh no, quando cammino io, quando cammino Roberto tu lo sai che devo guardare avanti Attenzione, finalmente un video che non appartiene a noi Sergio Riglia, Toons, episodio 1 Come? Cos'è questa roba? Eh che ne so io, mostrivi vedere Scopriamola insieme, sì sì Sergio Riglia, Toons C'è il signore, c'è il signore, c'è il signore Mi vuole parlare, mi vuole dire qualche cosa The God Belle gambe comunque Ammo ma che prendiamo? Aspetta che arriva il cameriere Buonasera, che pizza prende? Una pizza alla quarta stagione, una pizza a margherita e una pizza a fanculo Allora ragazzi Che lettera manca? Alzate la mano, alzate la mano e io vi risponderò Bella mano L'artista comunque Signor Riglia, qual è la sua risposta? Mio Bolla Va bene in chiesa, giustamente osanna dell'altodece osanna Sergio Ligliatuns se vuoi vedere altri episodi iscriviti e lascia like assolutamente si caro mi iscrivo subito mi metto un bel like questo me lo salvo una pizza alle quattro stagioni mi iscrivo e se ci stai seguendo spero che la fabbrica di malati ci faccia la reaction e l'abbiamo appena fatta caro vediamo se ha fatto altri video non ci sono va bene comunque spero di vederne altri assolutamente